Fabrizio Bin, Fabrizio Bin, anzi, si risposa, scrive Alberto Dandolo su Dago Spia rilanciando la notizia delle nozze del co-conduttore di Viva Rai 2. Avvisate Fiorello, il suo sodale si sposa, anzi, si risposa, scrive Alberto Dandolo su Dago Spia rilanciando la notizia delle nozze del co-conduttore di Viva Rai 2. Avvisate Fiorello, il suo sodale si sposa Anzi, si risposa, scrive Fabrizio Biglio e Valentina De Ceglie sono sposati dal 2014 e hanno due figli, Aldo e Bianco Ma chi è Valentina De Ceglie? Per lei Biglio in un'occasione ha avuto parole di La notizia delle nozze arriva a distanza di 10 anni dal loro Di lei si sa che lavora dietro le quinte del mondo televisivo come autrice Su Instagram si trovano foto di marito e moglie insieme nel backstage E che è la cugina di Alessia Mark A lei la conduttrice ha dedicato un modello di borsa della sua linea di accessori Marks & Angela Ecco la vale, dedicata a mia cugina Valentina, una donna dalle mille risorse A lei la conduttrice ha dedicato un modello di borsa della sua linea di accessori Marks & Angela Ecco la vale, dedicata a mia cugina Valentina Una donna dalle mille risorse, precisa A lei la conduttrice ha pensato quindi ad una borsa con una silhouette squadrata ma con il contrasto fra la pelle liscia e sca In più la tracolla la rende adatta a tutte le occasioni Aveva scritto presentandola sui so E la notizia per cui confermeranno ancora le promesse nuiziali ribadisce la forza di un legame stretto come il primo Quanto abbigno, di lei il comico ha parlato in un'intervista a Oggi di qualche tempo fa Mia moglie è l'unica persona